E tu? E io che? Niente. Devo dirti di nuovo che non ti toccherei neanche con un palo. Perché quando te lo dicevo, perlomeno... Beh, insomma, ci provavi. Ma adesso... Sembra che abbia il tifo. Non voglio approfittarmi di te insieme a la ticcia. Ah. Sì. Beh, allora... Aspettiamo che mi rimetta in sesto. Usciamo di qui, andiamo a cercare mio padre. Gli chiedi la mia mano. Se ti sei ammorbidito, fammelo sapere. Ma che bagio è questo? Aiutami. Me chiedi la mia mano. Non mi rimetta in sesto. Non mi rimetta in sesto. E non mi rimetta in sesto. Stai bene? Sì, 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 e tu? Sì Bogotà, Nairobi, dove siete? Nel montacarichi, stiamo bene Denver, Rio, dove sono?